In seguimento a tutta velocità domenica mattina quando alle 9.30 una pattuglia della polizia ha incrociato una BMW M2 che sfrecciava lungo via Cristoforo Colombo, correndo in direzione Rosà. Alla guida dell'automobile un giovane di 23 anni che ha seminato il panico fino a quando la sua corsa si è fermata in via Cusinati a Rossano Veneto. Qui il pirata della strada si è introdotto in un'azienda confidando di averla fatta franca. I poliziotti che nel frattempo avevano già identificato la targa hanno aspettato che uscisse a bordo di un furgone di proprietà dell'azienda proprio come la BMW per fermarlo e contestargli quattro violazioni del codice della strada. Guida pericolosa, sorpasso in prossimità di incroci, guida contromano ed eccesso di velocità. Combinate sanzioni per 671 euro, 22 punti decurtati e patente ritirata.